1. Prima round. L'obiettivo è operare in squadra per un cibo e le tre. 1. Prima round. L'obiettivo è operare in squadra per un cibo e le tre. L'obiettivo è operare in squadra per un cibo e le tre. L'obiettivo è operare in squadra per un cibo e le tre. L'obiettivo è operare in squadra per un cibo e le tre. L'obiettivo è operare in squadra per un cibo e le tre. L'obiettivo è operare in squadra per un cibo e le tre. L'obiettivo è operare in squadra per un cibo e le tre. L'obiettivo è operare in squadra per un cibo e le tre. L'obiettivo è operare in squadra per un cibo e le tre. è operare in squadra per un cibo e le tre. L'obiettivo è operare in squadra per un cibo e le tre. è operare in squadra per un cibo e le tre. è operare in squadra per un cibo. è operare in squadra per un cibo e le tre. è operare in squadra per un cibo e le tre. è operare in squadra per un cibo e le tre. è operare in squadra per un cibo. è operare in squadra per un cibo e le tre. è operare in squadra per un cibo e le tre. è operare in squadra per un cibo e le tre. A presto! La spalla del cagliore mi fanno male. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.